Quando ci provi con una ragazza e lei non vuole, ti arriva uno schiaffo e io non ho signo in faccia. Tra noi non può esserci niente. Sei innamorata di lui? Tu sei un egoista. Come puoi chiedermi di dimenticarmi di te? L'amore è inevitabile. Ci rende felici o ci fa disperare? Perché l'amore, si sa, è incorreggibile. Proprio come loro, i ragazzi della Mastery School. Incorreggibili. Dal lunedì al VNV alle 13.40 su Boeing. Boing, boing, boing.